Siamo priorità alla scuola, siamo tutti noi, siamo tutti voi, crediamo profondamente che l'unione faccia la forza e che ognuno di noi possa fare la differenza, come ogni singolo tassello di un grande puzzle. Siamo qua perché riteniamo che la presenza, soprattutto per i bambini più piccoli, sia essenziale. La scuola non è fatta solo di emozioni, la scuola è fatta anche di relazione, anzi soprattutto di relazione. Abbiamo deciso di organizzarci per far sentire innanzitutto la nostra voce e soprattutto il nostro dissenso a questa gestione scriteriata, di chiusura indiscriminata e anche con pochissimo preavviso delle scuole. La nostra richiesta non è quella di aprire a prescindere dalla situazione pandemica, ma aprire in una situazione di sicurezza. E quindi nel nostro piccolo stiamo cercando di rilevare, fare uno storico di tutti i contagi, dividendoli per fasce d'età e cercando di capire quanto sia utile la chiusura anche delle fasce più basse di età a livello scolastico. Viviamo in modo molto problematico perché se io e mia moglie lavoriamo in settori dove si può lavorare solo che in presenza, quindi dobbiamo chiedere continuamente permessi, aspettative, danneggiando anche i colleghi che purtroppo devono comunque supportare il lavoro che noi non riusciamo a fare. Abbiamo i genitori anziani che non possono gestire i bambini e praticamente la cosa è molto problematica. Non solo, dobbiamo considerare la ricaduta che ha sui bambini, questo continuo doversi allontanare dalla scuola, dalle maestre. Una rete, una rete che solleva un po' i disagi che questa situazione sta creando a tutte le famiglie, ai bambini, ai ragazzi, perché non se ne parla abbastanza veramente dei problemi. Tutta questa situazione sta creando nei bambini a lungo termine e è arrivato il momento di dar voce a questi disagi, a questi problemi, perché è giusto che anche loro abbiano diritto di parole in questo e facciano capire le problematiche. Lo dobbiamo per i nostri bambini perché i nostri bambini sono futuro, sono futuro di questo mondo, di questo paese.